Dico solo una cosa, Dusan Vlaovic, mamma mia che fenomeno, fenomeno l'attaccante serbo Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui a Jabez, oggi siamo in un nuovo video sono appunto qui nel Jabez Commentary per commentare il post partita di Empoli Juventus che finisce 2-3 al Castellani, la Juventus che batte 3-2 l'Empoli e si porta a meno 7 dalla vetta quindi fate attenzione alla Juventus che è ancora in corsa per questo scudetto non escludetela perché ragazzi con le milanesi vedrai tu se non si inserisce alla Juve io l'avevo previsto con l'arrivo di Vlaovic alla Juve l'avevo previsto che la Juve si sarebbe infilata nella corsa a scudetto l'avevo previsto per non tralasciare anche il Napoli, che giocatore è Dusan Vlaovic, un fenomeno lui gioca un altro sport, non gioca il calcio, non gioca con i terrestri lui è di un altro pianeta, un marziano, troppo forte prima di parlarvi della partita vi ricordo di lasciare un bel mi piace quindi qui sotto ditemi la vostra con un commento rimanete fino alla fine del video che vi faccio una domanda se siete nuovi iscrivetevi al canale mi raccomando molto importante, molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti non vi costa nulla iscrivetevi, attivate la campagna per rimanere sempre aggiornati seguitemi sui social Instagram, piattaforma viola e soprattutto venite a seguire anche su TikTok che sono abbastanza attivo quindi sto cercando di pubblicare almeno 3 TikTok alla settimana 2-3 TikTok, quindi venitemi a seguire anche lì e vi ricordo per maglie, per tute come queste ragazzi vi faccio vedere tuta completa per tute come queste è magliego.com un sito affidabilissimo, maglie di qualità scusate mi è caduto il problema tecnico mi era caduto il microfono per divise come queste tute con calpuccio o felpe o magliette di tutte le squadre ragazzi magliego.com, poi c'è sconto già per se avrete un ulteriore sconto trovate felpe, divise, tute, magliette di tutte le squadre trovate di tutte quante le squadre anche le divise retro mi raccomando approfittatene e anche le divise delle nazionali con il codice sconto già per se avrete un ulteriore sconto e se superate i 79 euro di spesa avete la spedizione gratuita parliamo della partita andiamo subito dritti la Juve che già improntata nel primo tempo meglio rispetto all'Empoli è uscita un po' più nel secondo tempo che è un po' calata la Juve è uscita fuori l'Empoli passa in vantaggio la Juventus con Moise Ken appunto il gol dell'1-0 su assist di Rabiot che fa un assist perfetto un lancio veramente alla Iniesta pallone perfetto per Moise Ken che di testa insacca e il gol dell'1-0 ma poi ragazzi l'Empoli la pareggia al 39 ragazzi comunque l'Empoli è una squadra che gioca a calcio non ha paura di nessuno nemmeno della Juve del Napoli non ha paura di nessuno quest'Empoli gioca un gran cancio con Anderazzoli che secondo me secondo me può tranquillamente arrivare può raggiungere traguardi importanti la metà classifica la può raggiungere tranquillamente anche nelle prime 10 ci può rientrare nelle prime 9 se continua così anche perché se l'altre basta che quelle sopra sbagliano l'Empoli se continua già così non lo so dove vedrete bene voi questo Empoli a fine anno questa è una domanda che già vi faccio adesso poi la pareggia quindi Zurkowski lì forse oggi non è stata perfetta soprattutto Szczesny sul secondo gol è stato un po' un errore di Szczesny comunque l'1-0 c'è l'1-1 quindi Zurkowski che sta facendo un grandissimo campionato il secondo migliore uno tra i migliori centrocampisti di questo campionato sicuramente uno dei migliori centrocampisti dell'Empoli insieme a Bayrami oggi ha fatto una grande prestazione Zurkowski Bayrami un po' in ombra stasera è stato un po' contrastato dalla difesa della Juve che l'aveva preparata appunto per le vie centrali era preparata abbastanza bene e poi ragazzi al 47esimo segna il gol Dujan Vlaovic il gol ma che giocata ragazzi ma che giocata ha fatto lancio passaggio di quadrato stop di destro tiro col piede col piede suo ragazzi col mancino e la enzacca dove il portiere non può arrivare e gol del 2-1 quindi si va sotto i spogliatoi con il 2-1 per la Juve poi ragazzi a sorpresa segna di nuovo Vlaovic segna di nuovo Vlaovic al 66esimo assist di Morata che appena entra Morata con questo nuovo modulo come esterno come ala sinistra rende particolarmente bene palla perfetta per Vlaovic che con il piede debole ragazzi quindi con il destro in sacca dove il portiere non ci può arrivare e gol del 3-1 e poi ragazzi a sorpresa al 76esimo va sotto 3-2 quindi gol di Andrea Lamantia al 76esimo qui errore di Cesni un po' della difesa che ha un po' dormito qui Bonucci oggi male forse da difesa con uno dei peggiori in difesa della Juve Bonucci e sono preoccupato per la nazionale sinceramente perché se questo è Bonucci sono veramente preoccupato e poi ragazzi la Juve che in ultimi 10 minuti stringe un po' le chiappe e si porta a casa questa vittoria importante in ottica in ottica in ottica Champions si allontana dall'Atalanta ma si avvicina anche alla vetta dello scudetto fatemi sapere la vostra quindi con un commento dove arriverà questa Juve potrà vincere potrà lottare fino all'ultimo per lo scudetto l'Empoli che posizione la vedete a fine anno quanti gol farà Dujan Vlovic e noi cominciamo a un prossimo video bella ragazzi sempre comunque forza del calcio iscrivetevi mi raccomando bella ragazzi vamos ciao 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 ciao